esatto proprio così oggi si cambia facciamo cose nuove siamo qua su clash mini giusto per parlare della novità ultimamente si sparge un po in giro la voce della moda di heyday cosa cosa che oggi promeremo perché sono proprio curioso di vedere come funziona questo gioco supercell ma prima di iniziare ricordatevi di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale per avere l'amicizia su brawl stars e clash real ma soprattutto per per supportare il tutta la serie e per non perdervi altri altri miei video e detto questo vi auguro una buona visione allora andiamo ad aprire il gioco e vediamo che cosa succede perché sono molto curioso eccolo qua il nostro il nostro gioco dove diventeremo contadini e apriremo la nostra apriremo la nostra fattoria dunque sembrava un giorno come tutti i tempi fino a quando non è arrivata la lettera strano strano che quando arriva una lettera se me sembra un giorno strano ok che ne diresti di lavorare nella fattoria certo che che lavoriamo in una fattoria siamo venuti abbiamo aperto il gioco per questo motivo vi prego lasciate questo questo laica in su perché quando sarà il momento vi aggiornerò sulle live che faremo quindi quindi non vi preoccupate che presto torneranno sul canale gli spacchettamenti pokemon tranquilli via vi aggiornerò vi aggiornerò io però ora concentriamoci sul gioco quindi se non sbaglio questo giochetto qui non ci sono delle delle non è come clash of clans né come clash royale che ci sono dei combattimenti quindi allora scegli la tua fattoria allora su questo dispositivo in gioco ok sei uscito automaticamente ok ok perfetto ehi sono il signor witcher ti aiuterò a mettere in piedi la tua fattoria fantastico quindi ragazzi apriamo stiamo aprendo la nostra nuova fattoria mi sembra adesso dovremmo tagliare un bel po di grano e quindi adesso dovremmo e infatti mettere cioè piantare i semi di grano e adesso dovremmo piantare anche le pannocchie mi sembra ok quindi adesso dovremmo dipingere la nostra la nostra casa in bianco ma adesso tocca alla alla stalla degli animali che la coloriamo appunto di rosso e questo ha pure questo non sapevo fantastico mentre invece ok invitiamo qualche amico pennuto alla festa aspetta aspetta aspettate quindi secondo me quel questo amico pennuto che sta dicendo dovrebbero essere le galline o le oche beh ah sì questo è un pollaio per cui certo certamente ok quindi e qua possiamo vedere gli animali tutti gli animali che abbiamo a disbo a disposizione e e dobbiamo sbloccarli oppure no aspettate andiamo prima in ordine ma ricordatevi ragazzi che quando giocate se è la prima volta che che ci giocate come animale avete subito la gallina mentre tutti gli altri devono essere sbloccati adesso vi faccio vi faccio vedere quelli che devono essere sbloccati qua abbiamo la mucca che si sblocca a livello 6 il porco che si sblocca a livello 10 poi la pecora che si sblocca a livello 16 e la capra che si sblocca a livello 32 e così via quindi adesso andiamo a piantare cioè a mettere la gallina all'interno del nostro nuovo pollaio ne dovremmo metterne altre, altre ancora ok quindi adesso dal nostro pollaio dobbiamo prendere il mangime per galline e espanderlo in modo che loro possano mangiare tranquillamente quindi ci sto dicendo tocca una gallina e poi tocca due volte il pulsante accelera ok ma qual è sto pulsante accelera? dovrebbe essere ah infatti ok capito usa l'accelerazione anche con la seconda gallina madonna spaventa passeri quante gemme mi fai consumare ah l'accelerazione è gratuita perfetto me? ah però quindi adesso cosa dobbiamo fare stanno covando e fantastico siamo saliti di livello 2 e adesso abbiamo sbloccato una panetteria il pane un po' un po' di monete e e quattro pannocchie mi sembra e questo e questo contadino chi sarà mai? ah è Mike ciao Mike gestisco il vecchio mulino vicino al paese come hai chiamato questa bella fattoria? quindi adesso dobbiamo dobbiamo chiamarla ragazzi voi 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 che nome dareste ad una fattoria di ai dei scrivetelo scrivetela vostra nei commenti e io vado a mettere appunto il podere di no caio07 ecco fatto sono contento che qualcuno si occupi di questo posto bene a presto arrivederci è stato un piacere conoscerti fantastico che cosa che cosa ne pensi di trasformare tutto questo grano in pane con una nuova panetteria penso che potrebbe essere una buona idea quindi e questa posta cosa ci dice ah queste sono le notizie queste qua sono tipo le notizie di Brawl Stars Clash of Clans Clash Royale questi sono tipo gli edifici cioè ipotizzo che che questo sia l'edificio più più importante del nostro podere mi sa però qua non stiamo a sprecare delle gemme perché come vedete la fase di costruzione è veloce perfetto abbiamo guadagnato un paio di punti di esperienza e adesso dobbiamo infilarci il pane dentro poi poi e ok madonna siamo saliti di livello 3 abbiamo fatto un bel podisi di esperienza intanto vi dico che questa è la prima volta che ci gioco poi non so voi dovete commentare qua sotto per per dire qual è quando è stata la prima volta che ci avete giocato mi raccomando ditelo scrivete fatemi sapere in uno dei vostri commenti allora acquista un mangimificio trascinando nel negozio delle tue proprietà ok d'accordo quindi questo sarebbe un nuovo un nuovo un nuovo terreno ok prima costruiamo il nostro nuovo terreno ok abbiamo finito e poi questo chissà dove lo mettiamo lo lo mettiamo qui ok va bene che peccato spercare una gemma per una fase di costruzione ma ma non ce ne frega l'importante l'importante è che cerchiamo di migliorare il nostro podere così così facciamo più esperienza dunque adesso che dobbiamo fare pianta altri semi ricordi come si fa certo che mi ricordo però a sto punto dobbiamo piantare le pannocchie per cui per cui adesso ne dovremmo aggiungerne altre piantiamo altri semi certo sì ma ok allora facciamo una cosa io vorrei io adesso vorrei fare un mix tipo e questa chi è chi sarà mai questo fantastico profumo proviene da qui oh ma ma dove sono finite le mie buone maniere mi chiamo john piacere buon pomeriggio vorresti comprare qualcosa quindi mi sta dicendo che di fare tipo uno scambio boh io io dico va bene ok gli affari vanno forte continua a ammietare i campi e a sfornare pane a produrre uova da vendere ok perfetto allora allora facendo un riassunto di di quello che abbiamo fatto facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto allora per prima cosa dovevamo piantare i semi poi per seconda cosa dove dovevamo colorare la casa poi la seconda la terza è colorare la la stalla e poi poi la quarta è colorare il fienile poi costruire la panetteria poi piantare altri semi aggiungere il pollaio e questo che dire ragazzone il video finisce qua spero che questo nuovo gioco che vi porto adesso sul canale vi piaccia e mi raccomando ripeto mi raccomando like like iscrizione se vuoi avere la mia amicizia su brawl stars o clash of clans e soprattutto e soprattutto iscriviti per non perdere altri miei prossimi video detto questo ci vediamo al prossimo video ciao